Una volta avviato il corso e sperimentate le prime attività di innovazione didattica, viene spontaneo chiedersi se e come stiano funzionando. Ma cosa vuol dire che un percorso di innovazione didattica sta funzionando? Ripartiamo dalla definizione di innovazione didattica. Abbiamo visto che l'innovazione didattica è un processo in continua evoluzione di un'esperienza didattica e che ha obiettivi specifici di miglioramento legati alla qualità dei risultati di apprendimento o al miglioramento dell'esperienza qualitativa e percettiva dell'esperienza stessa. Abbiamo visto anche come sia fondamentale affiancare ad un'esperienza di innovazione didattica un'attenta attività di monitoraggio, che è fondamentale per capire se si stanno raggiungendo, se sono raggiunti gli obiettivi di miglioramento e per avere elementi per ritarare e migliorare sempre l'esperienza d'apprendimento stessa. In questa prospettiva la valutazione dell'efficacia didattica può partire da dati di tipo quantitativo, come ad esempio quanti studenti hanno passato l'esame al primo tentativo, la media dei voti, eccetera, ma non può fermarsi qui. È infatti importante andare oltre le dimensioni legate alla valutazione finale. È fondamentale andare a valutare anche qual è la qualità percepita dell'esperienza didattica, sia da parte del docente che degli studenti, in relazione ovviamente ai risultati di apprendimento attesi. Un altro fronte molto interessante da osservare è lo sviluppo di competenze trasversali. Grazie infatti all'utilizzo di approcci innovativi è più facile sviluppare durante il corso sia le competenze core, legate al corso stesso, che competenze appunto trasversali, come quelle legate alle 4C, come pensiero critico, comunicazione, collaborazione e creatività. Queste competenze sono quelle che più aiutano gli studenti a strutturare i contenuti appresi all'interno del proprio sistema di conoscenze, quello che già posseggono, e a utilizzarli in contesti nuovi e complessi. Per monitorare il processo di innovazione didattica è necessario quindi prevedere un piano di monitoraggio che indaghi dimensioni sia quantitative che qualitative e che preveda momenti che siano formali e strutturati oppure informali per la raccolta di feedback e l'ascolto della classe, sia durante che al termine del corso stesso. In questo video ci occupiamo della dimensione quantitativa. La valutazione di un corso parte spesso da un'analisi di tipo quantitativo che è utile non solo perché consente di raccogliere dati confrontabili con altre edizioni del corso o con altri corsi, ma anche perché fornisce un primo grande riscontro su come stanno procedendo le attività e fa scattare eventuali segnali d'allarme. Ma quali sono le principali dimensioni quantitative da prendere in considerazione? I primi riscontri quantitativi si hanno rispetto alla partecipazione, intesa sia come numero degli studenti che partecipano alle lezioni rispetto agli iscritti al corso, sia come partecipazione degli studenti alle singole attività proposte. Per quanto riguarda la partecipazione al corso in generale, i dati devono ovviamente venire correlati al periodo agli orari in cui il corso si svolge, a vincoli o meno di obbligatorietà nella partecipazione al corso, alla sovrapposizione con altre lezioni o alle caratteristiche degli studenti stessi. Se la partecipazione è bassa e sono stati esclusi i motivi organizzativi, è utile andare a indagarne le motivazioni e valutare eventuali riassestamenti. Se ad esempio il corso è troppo impegnativo per gli studenti, anche rispetto alle pressioni che ricevono da altri corsi, per facilitare la partecipazione può essere possibile valutare una rimodulazione delle attività che vengono proposte o una diluizione delle lezioni lungo un arco temporale più lungo, salvo poi coordinarsi in modo più forte l'anno successivo con il corso di studi. L'altro indicatore quantitativo legato alla partecipazione è quello relativo alla partecipazione alle singole attività. In caso di risultati non soddisfacenti è importante andare a capire da che cosa può dipendere e le motivazioni potrebbero essere diverse. Potrebbe essere ad esempio che gli studenti decidano di non partecipare alle attività perché non ne capiscono l'utilità rispetto ai risultati di apprendimento attesi o rispetto alla valutazione finale. O ancora che temano di essere giudicati negativamente e di essere penalizzati in sede di esame. In questi casi può essere sufficiente rivedere le modalità di valutazione delle attività oppure rifocalizzare il patto d'aula. Un altro indicatore quantitativo fondamentale viene raccolto al termine del corso analizzando i risultati degli esami. Questo è l'indicatore che tradizionalmente più viene associato al successo di un corso. Il tema della valutazione è però un tema complesso. L'interpretazione di questo dato deve tener conto infatti di come è costruita la valutazione e di come è strutturato l'esame finale. Ma attenzione, se si vuole valutare l'efficacia di processi di innovazione didattica, questo dato potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe essere infatti necessario andare a osservare e valutare gli output delle attività di didattica innovative proposte durante il corso, collegandole ovviamente ai risultati di apprendimento attesi definiti in fase di progettazione. Un ultimo insieme di dati quantitativi proviene dall'analisi dei questionari di valutazione della didattica, compilati dagli studenti e proposti dall'istituzione. I risultati di questi questionari possono fornire informazioni utili ad una comprensione maggiore dell'esperienza di apprendimento, ma potrebbero anche fornire feedback un poco fuorvianti, perché influenzati da diversi fattori, come la resistenza al cambiamento da parte degli studenti, una poca comunicazione da parte del docente rispetto agli aspetti di didattica innovativa del corso, un maggior impegno richiesto rispetto ad un corso tradizionale e così via. Soprattutto nelle prime sperimentazioni ci si può aspettare una diminuzione nelle valutazioni di fine corso, anche se le attività che si sono proposte si sono rivelate efficaci. Gli accorgimenti che è possibile mettere in atto per limitare, ridurre o addirittura annullare questa diminuzione nella valutazione, sono principalmente tre. Prestare attenzione alla comunicazione del percorso che si sta proponendo e alle modalità di valutazione, attivare momenti di dialogo con la classe, formali o informali, e progettare le attività in stretta correlazione con i risultati di apprendimento attesi e le modalità di valutazione. Tutti questi indicatori sono fondamentali per capire se un corso è funzionato. Essendo però un processo, sono molte le dimensioni sulle quali il docente può agire e bisogna quindi restituire al quadro generale complessità e profondità attraverso un'analisi anche qualitativa, che ci aiuti a interpretare tutti i dati quantitativi per capire davvero che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato e perché. Grazie. Grazie a tutti.